Se ti trovi solo, angosciato, oppresso, se ti trovi veramente nel buio delle tenebre, se ti trovi lì seduto e non vedi nessuno intorno a te, se vedi che sei solo e riconosci la tua solitudine, la tua debolezza, o riconosci la fragilità nella tua vita, riconosci che il nemico sta avanzando, che l'esercito cerca di divorarti, che il nemico cerca di farti del male, opprimere la tua vita, Dio è con te, Dio è con te, Dio ti ha assistito, ti assisti ancora, Dio ti rende forte, Egli ti darà quelle forze, quella pace per poter affrontare le situazioni e vincere, ci crediamo fratelli, ci crediamo fratelli, gloria a Dio, Signore ci crediamo.